Musica Arrestato a Maresciallo dei Carabinieri avrebbe consegnato atti di indagine riservati all'ex parlamentare del PDL Nicola Cosentino perquisita la casa dell'ex sottosegretario Eddie Walter Lavitola, ex direttore dell'Avanti Moto rubate e riciclate nello Sri Lanka, nuove ordinanze a Napoli, banda sgovinata dalla polizia Spaccio a Rione Libertà di Benevento nelle sere della Movida, pusher 28enne pizzicato sul fatto dai finanzieri Riunione in prefettura di alcuni sindaci del Sannio sul presunto arrivo di migranti Saranno attivate azioni utili al fine di ridurre le presenze attualmente esistenti Individuate le aree con maggiori criticità, lavori aggiornati a lunedì, incontro al commissariato di Giuliano sull'emergenza, roghi tossici Storico fabbro di Pagani sfrattato, la denuncia dell'artigiano Francesco Zarra Voglio essere ascoltato, giustizia sorda Nuovo appuntamento con l'informazione targata a Media TV, lo abbiamo appena sentito dalle nostre anticipazioni Arrestato un maresciallo dei carabinieri avrebbe consegnato atti di indagine riservati all'ex parlamentare del PDL Nicola Cosentino L'accusa che grava su Giuseppe Iannini è rivelazione di secreto d'ufficio Sentiamo Un maresciallo dei carabinieri è stato messo ai domiciliari per rivelazione di secreto d'ufficio per aver consegnato atti di indagine riservati all'ex parlamentare del PDL Nicola Cosentino indagato in stato di libertà per ricettazione nell'ambito della stessa inchiesta A quanto si è preso l'indagine coordinata dalla Didia di Napoli si riferisce in particolare alla consegna di atti riguardanti i presunti rapporti con la Camorra da parte dell'ex presidente della provincia di Napoli Luigi Cesaro L'accusa di ricettazione contestata dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli a Cosentino riguarderebbe delle informazioni riservate rivelate dal maresciallo dell'arma attraverso un appendrive il cui utilizzo è emerso dalle analisi del computer del politico Il computer fu oggetto di accertamento in seguito all'arresto di Cosentino avvenuto il 3 aprile del 2014 In quella circostanza Cosentino finì in cella nell'ambito di un'indagine sugli affari della società di famiglia la Versana Petroli. Nel corso dell'operazione furono arrestati anche due fratelli dell'ex coordinatore campano del PDL I carabinieri inoltre perquisirono l'abitazione di Cosentino in via Giannone a Caserta analizzando attentamente il computer Anche oggi i militari hanno perquisito l'abitazione di Caserta dell'ex parlamentare a cui è stato notificato un avviso di garanzia per ricettazione aggravata Perquisizioni anche nelle case dell'ex direttore dell'Avanti Walter Lavitola e dell'ex sotto ufficiale dei carabinieri Enrico Lamonica già coinvolti nell'indagine sulla cosiddetta P4 Il carabinieri arrestato è Giuseppe Giannini in servizio nel gruppo di Castello di Cisterna fino al settembre del 2013 Blitz alto impatto dei carabinieri a Napoli Sequestri e arresti trovati e sequestrati 65 proiettili e sostanze stupefacenti Scoperto grosso furto di moto al vomero dalla Polizia di Stato la rifurtiva prima di essere spedita in Sri Lanka era sistemata in un covo schermato che ne impediva la localizzazione satellitare eseguite a Napoli 9 ordinanze cautelari Il servizio A Napoli operazione della Polizia contro il furto e il riciclaggio di motoveicoli di grossa cilindrata Nuove le ordinanze di custodia eseguite dagli agenti della suona mobile del commissariato Arenella Gli indagati italiani e stranieri sono ritenuti appartenenti ad un gruppo criminale dedito a vario titolo al furto, alla ricettazione e al riciclaggio all'estero di moto rubate a Napoli nei quartieri Vomero e Arenella ricostruito dai poliziotti coordinati dalla procura della Repubblica partenopea il collaudato modus operandi della banda in particolare il connubio tra italiani e stranieri sequestrati anche due fucili a canne mozze e munizioni da guerra individuato anche il covo dei malviventi opportunamente schermato per impedire il rinvenimento delle motociclette rubate i motoveicoli che venivano rubati a Napoli venivano poi spediti nello Sri Lanka sequestrati i negozi di abbigliamento di lusso nella galleria Umberto a Napoli indagati sei componenti della famiglia che gestiva la catena di esercizi disposte perquisizioni individuate le aree con maggiori criticità lavori aggiornati alla giornata di lunedì incontro al commissariato di Giuliano sull'emergenza roghi tossici sentiamo i dettagli un vertice operativo per contrastare l'abbandono dei rifiuti e roghi tossici si è tenuto nel commissariato di polizia di Giuliano il vertice è stato presieduto dal prefetto Donato Cafagna delegato dal governo all'emergenza dei roghi tossici nelle province di Napoli e Caserta con i responsabili delle forze di polizia dell'esercito delle polizie locali di Giuliano, Marano e Qualiano si è discusso delle linee guida da seguire per contrastare gli incendi dei rifiuti ma soprattutto è stata avvertita l'esigenza di sollecitare le amministrazioni locali all'immediata rimozione dei rifiuti lasciati di notte lungo le strade da tempo gli agenti del locale commissariato diretto dal primo dirigente Pasquale Trocino hanno intensificato i controlli lungo alcune aree considerate a maggiore rischio nel corso dell'incontro presenti anche rappresentanti delle associazioni ambientaliste sono state evidenziate anche alcune aree considerate a maggiore criticità i lavori sono stati aggiornati a lunedì prossimo Spaccio a Rione Libertà di Benevento nelle sere della Movida pusher di 28 anni sanita appizzicato sul fatto dalla Guardia di Finanza Il servizio Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 28enne di Benevento il provvedimento restrittivo eseguito dai militari della sezione immobile del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza è scattato nelle prime ore dello scorso 25 luglio a seguito di indagini coordinate dai magistrati della Procura Sanita secondo quanto si apprende le investigazioni delle fiamme gialle iniziate alla fine del 2015 e portate avanti fino a giugno 2016 hanno consentito di sequestrare varie tipologie di droghe e reprimere diversi episodi di spaccio con la protagonista il ragazzo arrestato l'uomo aveva come base Rione Libertà ma nei weekend si spostava nel centro cittadino dove proseguiva l'attività illecita nei vicoli della Movida diversi gli assuntori di sostanza stupefacente segnalati alla Prefettura il GIP ha anche disposto al sequestro preventivo di tre motocicli intestati all'indagato ritenendo evidente la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato il giovane ora agli arresti domiciliari Avevano appena compiuto un furto di attrezzi agricoli due avellinesi finiscono ai domiciliari Sentiamo I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e quelli della stazione di Avellino hanno tratto in arresto due persone ritenute responsabili di furto in abitazione i due malviventi una 49enne ed una 36enne entrambi di Avellino e gravati da specifici precedenti di polizia incuranti della presenza dei proprietari residenti si erano introdotti in alcune abitazioni dove avevano già asportato degli attrezzi agricoli Sfortunatamente per loro alcune persone a testimonianza dell'inestimabile valore aggiunto offerto dalla partecipazione della collettività al bene comune della sicurezza non hanno esitato ad allertare con tempestività il 112 ricevuta la segnalazione i militari in servizio presso la centrale operativa hanno disposto in tempo reale l'invio di due autoradio che sono piombate sul posto sorprendendo i ladri che avevano già caricato parte della rifurtiva sulla loro auto gli accertamenti compiuti sul posto dagli uomini dell'arma hanno consentito di accertare in modo inequivocabile la provenienza delittuosa dei beni trasportati poi sottoposti a sequestro in attesa di restituzione agli eventi di ritto e pertanto ricorrendo ai presupposti della flagranza di reato i due uomini sono stati tratti in arresto per furto in abitazione gli arrestati e spretate le formalità di rito sono stati associati presso le rispettive abitazioni in regime di detenzione domiciliare torniamo ad occuparci dell'incidente del bus finito nella scarpata di Monteforte Irpino le fasi della tragedia sono state ricostruite in un video dalla polizia stradale vediamo è una ricostruzione che mette i brividi quella che la polizia stradale ha fatto in un video dell'incidente stradale avvenuto il 28 luglio del 2012 sul viadotto Acqualonga della A16 napolicanosa nel quale persero la vita 40 persone di ritorno da una gita turistica a Pietrelcina il video realizzato al computer con l'ausilio di immagini vere è stato proiettato durante le udienze preliminari del processo nel tribunale di Avellino gli esperti della polizia stradale hanno riprodotto il tragico percorso del bus dal momento in cui la rottura di una parte della trasmissione mette fuori uso i freni e i tentativi dell'autista di rallentare la corsa del pullman sulla discesa sfruttando l'attrito contro le barriere laterali della carreggiata le immagini illustrano anche la fase finale della corsa con le collisioni multiple contro le auto incolonnate a causa di un restringimento della carreggiata prima di precipitare dal viadotto da un'altezza di circa 30 metri dopo aver sradicato alcuni New Jersey laterali fissati a terra per la tragedia di Montefortirpino sono state rinviate a giudizio 15 persone l'inizio del processo è stato fissato per il 28 settembre inchiesta sul riciclaggio in Sardegna rinvio per competenza territoriale per due bancari proprio di Avellino sentiamo non andranno a processo a Cagliari il 25 novembre prossimo i due bancari di Avellino Antonio Vietri e Sabino Gioia accusati di favoreggiamento nell'inchiesta sarda sul presunto riciclaggio di denaro dei clan camorristici dei Casalesi ed Alessandro lo precisa l'avvocato difensore Luigi Petrillo rendendo noto che il GUP del tribunale cagliaritano Cristina Ornano ha disposto per i suoi assistiti e dietro sua richiesta il rinvio degli atti alla procura di Napoli Nord per competenza territoriale compariranno invece a novembre come stabilito dal GUP davanti ai giudici sardi l'europarlamentare Salvatore Cicu Forza Italia, l'ex sindaco di Sestu Luciano Taccori e l'ex capogruppo forzista nello stesso comune Paolo Cau con loro ha processo altre 12 imputati l'inchiesta è ruotata attorno alla vendita di un terreno a Villa Simius da parte della Turicost nella quale Cico e Taccori sarebbero stati soci occulti ad una accordata di imprenditori campani che poi hanno realizzato un villaggio turistico in prefettura l'incontro di alcuni sindaci della provincia con il prefetto di Benevento al fine di predisporre alcune misure condivise in materia di sicurezza per tutto il periodo estivo nel corso della riunione il prefetto Paola Galeone ha dato rassicurazioni anche in merito alla vicenda migranti ed ha rassicurato per esempio anche il comune di Terese Terme non sarà destinatario di nuovi arrivi al contempo anticipato che saranno attivate azioni utili al fine di ridurre le presenze attualmente esistenti sul territorio l'ANAS comunica che nell'ambito dell'accordo quadro basta a buche verranno avviati a partire da lunedì 1 agosto i lavori di ripristino della pavimentazione della relativa segnaletica sulla strada statale 372 Telesina nel dettaglio per la realizzazione degli interventi tra il 1 e il 12 agosto e tra il 29 agosto e il 9 settembre nella fascia oraria tra le 7 e le 18 e 30 dei giorni compresi tra lunedì e giovedì e tra le ore 7 e le ore 14 dei venerdì ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi sarà in vigore il senso unico alternato per una estensione massima di 500 metri in tratti saltuari compresi tra il chilometro 0 e il chilometro 61 l'esecuzione dei lavori partirà da tratti stradali situati in provincia di Benevento e proseguirà poi in provincia di Caserta l'avvio delle attività è stato preventivamente comunicato da ANAS alla prefettura e alla polizia stradale di Benevento storico fabbro di Pagani provincia di Salerno sfrattato la denuncia dell'artigiano Francesco Zarra dice voglio essere ascoltato giustizia sorda sentiamolo una storia che rasenta la drammaticità quella del signor Francesco Zarra lo storico fabbro paganese che ha il suo laboratorio in via De Gasperi a Pagani questa mattina nei suoi confronti l'esecuzione di uno sfratto una storia lunga la sua lui si ritiene vittima dei ritardi della giustizia la proprietà è mia dice e rivendica l'usucapione intanto vogliono portargli via la casa e il laboratorio dove svolge la sua attività che rappresenta l'unico sostentamento economico per sé, per la sua famiglia, per sua moglie per i suoi due bambini si è incatenato ed è disposto a tutto questa mia protesta è per dire a tutti i cittadini di Pagani che tutto questo io me l'ho studato ci ho messo 30 anni della mia vita con sudore e con onestà per realizzare sia casa che lavoro io da qua ci fanno la mia famiglia la mia dignità che mi hanno tolto pure la dignità tutto perché io domani non so da dove iniziare ho la forza di poter alzare il mondo però io voglio essere ascoltato dalla legge vera perché io credo nella giustizia riguardo alle banche vorrei sapere sempre da un competente come fa una banca a dare 500 mila euro a una persona su un terreno agricolo che ne vale 30 euro e poi questa persona ne va a fare altri 500 mila euro in un'altra banca poi dopo un altro po' di tempo ne va a fare altri 500 mila euro in un'altra banca e concludo con 2 milioni di euro io gli ho dato la possibilità di far diventare edificabili il terreno perché loro dalla mia pratica di condono hanno trasformato il terreno edificabile giusto prima non lo era prima non lo era questo è stato fatto nel 2016 quando il signor Gambardella era deceduto già nel 2012 io mi chiedo come è possibile se il signor Gambardella era deceduto 4 anni prima e l'accatastamento è risultato nel 2016 perché hanno usato la mia pratica di condono per arrivare a questa manovra al danno la beffa perché avete anche subito nei paraggi l'incendio di uno dei capannoni ormai passato in possesso dei nuovi titolari sì quello che ho subito che è una notte mi sveglio venerdì scorso sì venerdì scorso mi sveglio e vedo le fiamme molto alte subito prendo la pompa con l'acqua e cerco di domare un po' le fiamme i bambini terrorizzati pure io perché comunque nel cuore della notte non è che sia molto semplice e ho subito pure piccoli danni che non ne hanno importanza ma il danno maggiore è la mia vita la mia vita e siamo al calcio Serie A la Juve una scelta obbligata per vincere ma dietro alla fuga dal Napoli il rapporto inesistente con De Laurentiis Gonzalo Higuain da bianconero ci tiene a salutare i suoi ex tifosi dei quali comprende la rabbia ma non risparmia veleno sul presidente sentiamolo non andavo a rapporto con lui perché il suo modo di pensare non era il mio quindi è solo questo dopo non posso dire di più solo che la scelta mia è stata perché lui mi ha spinto a farla quando ho finito i miei tre anni lì per me aveva arrivato il momento di cambiare di aria ovviamente non in quel momento sino per serie di motivi che hanno successo prima come ho detto prima sono ringraziatissimo a tifosi e a mio compagno a lui no Higuain parte il nuovo acquisto del Napoli Milik è appena sbarcato all'aeroporto di Fiumicino l'attaccante polacco è atteso a Villa Steward a Roma per i test medici poi raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra Di Maro Folgarida dove la squadra in ritiro fino a sabato prossimo l'ex bomber dell'Ajax pagato dal Napoli 25 milioni di euro più bonus è giunto con un volo proveniente da Amsterdam lunedì prossimo la sua presentazione ufficiale ai tifosi azzurri in occasione dell'amichevole con il Nizza al San Paolo venerdì arriva anche il cardinale Crescenzio Sepe e la presentazione appunto della squadra del Napoli prevista per a venerdì 29 luglio alle ore 21 e 15 a Di Maro è stata spostata allo stadio San Paolo in occasione dell'amichevole organizzata per festeggiare i 90 anni del Napoli il prossimo primo agosto siamo alla serie B Franco Signorelli è il nome nuovo per il centrocampo bianco-verde dell'Avellino il calciatore di proprietà dell'Empoli ha giocato nell'ultima stagione in forza la Ternana piace sia alla dirigenza soprattutto al DS Enzo De Vito che l'allenatore toscano Lega Pro la casertana convoca una conferenza stampa all'appuntamento venerdì 29 luglio alle ore 17 presso la sala Mario Iannotta dello stadio Pinto per fare il punto della situazione alla vigilia dell'avvio ufficiale della nuova stagione Serie D in occasione degli allenamenti svoltisi presso il parco pubblico cittadino la società della Versa Normanna ha deciso di indire per il giorno 29 luglio anche qui ma alle ore 10 e 30 la prima conferenza stampa di apertura della nuova stagione calcistica e con la Versa Normanna è tutto vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo arrivederci alla prossima edizione grazie a tutti Previsioni per venerdì 29 luglio. Arriva l'anticiclone azzurro e il sole torna a dominare tutta l'Italia. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord avremo una bella giornata di sole con cielo che sarà sereno o poco nuvoloso, isolati piovaschi pomeridiani sull'arco alpino del Trentino Alto Adige. Al centro anche qui ampio soleggiamento su tutte le regioni dove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le nostre regioni. Raggiungiamo infine anche il territorio del sud. A parte isolati piovaschi sui monti della Calabria il sole sarà dominante anche qui su tutte le regioni. Come saranno invece i venti, soffieranno debolmente da direzioni variabili sul Tirreno, saranno invece di maestrale sull'Adriatico. Temperature previste per questa giornata. Minime che rimangono pressoché stazionarie. I valori saranno compresi tra 17 e 23 gradi. Durante il giorno prevediamo 26-32 gradi al nord, tra 28 e 33 gradi al centro e non più di 32 gradi al sud.